Domani sera andranno in scena le gare di andata del primo turno di Coppa Lazio di C2. Lo scorso anno il Lido di Ostia grazie alla vittoria in questa competizione riuscì ad essere promosso nel massimo campionato regionale. C'è dunque fermento attorno ad una competizione affascinante nella sua fase finale. La formula prevede 28 gare al primo turno, 14 al secondo, 7 al terzo. In 7 poi parteciperanno di diritto alla Final 8. Una vera ripescata. Tra gli accoppiamenti del primo turno spiccano due match in particolare. Il primo è Spinaceto Virtus Sanguillara. Il secondo è la sfida tra il sorprendente Villa Aurelia e il club atletico Centocelle.